Una vittoria speciale dedicata ad un loro ex compagno di squadra che li ha lasciati prematuramente. I ragazzi della categoria allievi dell'Albignase Gocaccio si sono giudicati il torneo regionale battendo la squadra del camisano. La grinta messa in campo per onorare Borrell Dancio Cameni, il loro compagno, morto a 16 anni lo scorso agosto per un tragico incidente domestico. Il ragazzo era rientrato in casa, con la famiglia stava andando a letto quando è scivolato cadendo contro la porta a vetri. Lui, alto e fisico robusto, ha sfondato la porta e le schegge gli si sono conficcate nelle cosce recidendo l'arteria femmorale. Quel ragazzo, il gigante buono come lo chiamavano, è rimasto nei cuori degli allievi dell'Albignasego che giocavano con lui e così a fine partita, dopo un match combattuto fino all'ultimo minuto come i veri campioni, hanno deciso di dedicare a lui la vittoria. Un ragazzo che a 16 anni aveva mostrato doti tecniche di altissimo livello.